La Fed e Powell fanno crashare i mercati, li buttano giù l'ennesimo rialzo dei tasti di interesse, atteso per dire la verità, ma anche il discorso di Powell è stato fortemente ripetitivo rispetto a quello che aveva già detto nella precedente riunione di agosto. Allora, perché i mercati hanno reagito prima con un pump fake, praticamente una manipolazione palese, poi un crash standard, è un po' quello che solitamente succede, cioè ipervolatilità nell'uscita delle news, perché in realtà i mercati possono prendere l'ambita bene o male, ma poi ritornano dove devono andare, e cioè trend laterale ribassista o ribassista in questa fase. Perché ragazzi? Perché semplicemente la Fed continua ad alzare i tassi senza batter ciglio e Powell nel suo discorso ha dichiarato che continuerà a farlo finché l'inflazione, il tasso inflazione, non sarà sotto controllo. E ha dichiarato per la seconda volta in maniera netta, schietta e sincera che i mercati si scordassero change di politica monetaria, fin tanto che l'obiettivo dell'inflazione sotto controllo non sarà raggiunto. E' proprio per questo che puntualmente i mercati sono ritornati a fare nuovi minimi per quanto riguarda Nasdaq, Bitcoin si è tenuto lì vicino, mentre Ethereum nuovi minimi di periodo. Andiamo a guardare un po' di grafici perché durante le fasi di inflazione alta quello che capita appunto è vedere queste stocks nel breve periodo scendere, gli asset scendere, le cripto scendere in generale perché? Perché c'è la politica monetaria che va a togliere insomma il cash, ma a un certo punto finirà questa politica monetaria restrittiva e un po' prima della fine della politica monetaria restrittiva probabilmente i mercati toccheranno il loro minimo. Allora, c'è possibilità di comprendere più o meno un'area temporale o un grafico che ci possa indicare quando può avvenire la fine di questa politica monetaria restrittiva, quando la Fed può dire ok ne ho abbastanza? Ne parliamo in questo video ragazzi, ma prima di andare avanti iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, lasciatemi i pollicioni, non ho detto bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lo dico adesso, partiamo subito guardando quello che è successo ieri velocemente, ma poi andiamo a vedere i grafici che bisogna tenere sotto stretta osservazione e un grafico nuovo completamente mai portato sul canale che indica un'area temporale. Facciamo un ragionamento insieme, è una cosa nuova come tutte le cose nuove, può essere diciamo che ha bisogno di qualche ritocchino, ma lo facciamo insieme perché secondo me è molto importante. Ragazzi, il momento in cui la Fed dirà ne ho abbastanza, va bene, adesso i tassi possono salire di 0,25, non saliamo più, sarà un momento molto importante per i mercati perché quando il tasso di inflazione è elevato nei mercati finanziari si genera una fase di ribasso di breve periodo. Questa fase di ribasso è sostanzialmente dovuta al fatto che la Fed toglie il money, lo distrugge in pratica, toglie i soldi dai mercati e per farlo vende i titoli di Stato ragazzi, quindi si inondano i mercati di liquidità e questo, cioè si toglie la liquidità diciamo dai mercati e questo provoca una fase di costante ribasso perché c'è un eccesso di offerta in pratica che si va a delineare delle stocks che vengono vendute, vengono liberate nel mercato. Quindi un eccesso di offerta degli asset finanziari. Questa questione qui però ragazzi avviene nel breve, nel lungo periodo tendenzialmente quello che contano sono i dati di natura fondamentale, in questo caso dati macro fondamentale, che sono proprio la capacità delle banche centrali di riportare il sistema economico a un tasso di inflazione standard intorno al 2% e non è mai fisso al 2%, scilla intorno al 2%, di solito lo accettano poco poco più alto, però deve essere positivo, anche quello negativo è sbagliato, però un tasso che sia sotto controllo ragazzi, questo è il concetto. Nel lungo periodo un tasso di inflazione sotto controllo intorno al 2% è positivo, questo indica che un controllo attuale, un'azione attuale della Fed con grande forza, grande vigore come sta facendo, nel lungo periodo sarà positiva. Per i mercati, per l'economia, per l'intero emisfero occidentale probabilmente, però nel breve si soffre, ci sarà pena. Powell l'ha detto più volte, ci sarà possibile anche una recessione, possibile un rialzo dei tassi di disoccupazione, è stato chiaro e netto, non me ne importa nulla, ha detto io lotto contro l'inflazione, vado ad aggredire il tasso di inflazione. Quindi, nel breve periodo ragazzi, i mercati vanno down, gli investitori non apprezzano questa fase. Questo breve periodo, quanto dura? E' quello il vero problema, che è un'incertezza anche per gli investitori ragazzi, quindi va bene la questione nel lungo periodo, allora dico però nel lungo periodo andrà bene, quindi faccio buy the tip, compro, mi tengo gli asset. Perché gli investitori non ragionano così, intanto c'è il rischio che la Fed non riesca a controllare l'inflazione e quindi dovrà ricorrere ad altre misure e questo sarà un disastro totale, quindi dovesse succedere un'altra questione bellica, un altro evento straordinario che i mercati in questo momento non stanno prezzando, succede un disastro. Questo indica che la fase di rialzo dei tassi di interesse è di short term, la fase short term dove c'è l'inflazione alta è molto pericolosa, anche da un punto di rischi possibili, cigni neri e quant'altro. Quindi, primo punto fondamentale, andare in buy the tip anticipando i tempi. Gli investitori non lo amano, infatti vedete che abbandonano gli asset rischiosi in ogni caso. C'è un rifugio verso gli asset che sono value e meno growth, questo ci sta, assolutamente. Fermo restando che non so per quanto tempo una cosa del genere possa aver senso perché va bene all'interno del 2022, l'abbiamo visto, va bene anche una parte del 2023, però vista che l'economia è ancora molto forte a livello di pille, di disoccupazione, un rifugio per anni e anni e anni sui stocks value, forse non è proprio la scelta giusta, ma di questo magari ne parleremo nel 2023-2024, quando avremo dei dati chiari, però al momento io un po' il dubbio ce l'ho. Nel breve periodo quindi, ragazzi, gli investitori abbandonano in pratica gli investimenti rischiosi durante i periodi di rialzo dei tassi e di inflazione elevata e si spostano o sul money, quindi proprio sul cash, che è l'unico momento in cui ha valore, oppure su investimenti value, eccetera. Infatti anche nella giornata di ieri vi faccio vedere quello che ha fatto Bitcoin e poi andiamo, passiamo poi a guardare quelli che sono i grafici invece importantissimi che potrebbero indicarci la data e il momento in cui questa politica di restrizione della Fed, quindi monetaria della Fed, e di rialzo dei tassi, dovesse finire e quindi far toccare probabilmente un minimo anche ai mercati cripto. Vi faccio vedere Bitcoin ieri che cosa ha fatto, allora questo è il grafico daily, vi faccio vedere la giornata sul grafico daily che è stata la classica pump and dump. Vedete la shadow che si è andata a realizzare qui, significa che in pratica il mercato era salito e poi si è riportato down e vi faccio vedere anche un atteggiamento molto comune che avviene proprio quando le news non sono scioccanti, come in questo caso ragazzi, perché è vero che Powell ha indicato che il lavoro sarà durissimo, che bisogna accettare il pain, la recessione e quant'altro, ma in sostanza ha detto la stessa cosa che aveva detto ad agosto. Questo significa che da un punto di vista di equilibrio di prezzo di mercato non cambia rispetto al giorno prima, mentre ad agosto aveva fatto lo shock proprio ed era avvenuto infatti uno shock al ribasso, in questo caso non era praticamente cambiato nulla, semplicemente i mercati fanno finta che si dimenticano. Allora, guardate qui, giusto per capire come è anche ragionare sulle news. Allora, intanto, uscita dei tassi, pampone e poi bam, du, subito giù di bitcoin e poi riposizionamento il giorno dopo allo stesso identico livello di prima. Cioè in pratica tutto quello che è stata l'ambra dam della news è stata una semplice volatilità, ma il prezzo è ritornato il giorno dopo esattamente dove era. Perché? Perché non cambia in questo caso nulla, quindi non è sempre così la questione sulle news. Le news quasi sempre non impattano in nessun modo sul mercato, tranne quando sono news importanti come queste dei tassi, queste impattano, però se non sono scontate. In questo caso la news sui tassi, sulla politica di Paolo, è scontata dal mercato, è già nei prezzi e quindi provoca solo fluttuazioni di breve che riportano i prezzi allo stesso identico livello di prima e al percorrere la loro strada, che probabilmente magari continuano ad essere laterale ribassista, però nella shock da news non c'è stato ragazzi. Ecco perché quello che vedete in queste fasi è assolutamente, insomma, chiaro ed evidente. Quindi poi bitcoin in particolar modo si è andato a fermare sul suo stesso livello di minimo degli scorsi giorni, in realtà ha fatto un nuovo minimo in cloud daily, ha fatto quindi un minimo inferiore sia a quello di giugno sia a quello di settembre, quindi vedete qui ha aggiornato i suoi minimi, quindi un nuovo minimo l'ha fatto bitcoin ragazzi. Quindi la fase di trend continua ad essere laterale ribassista. Questa fase qui vediamo, insomma, se reggerà o non reggerà. Stessa identica cosa ha fatto Nasdaq 100, che ha fatto un nuovo minimo rispetto ai giorni precedenti, ma è ancora superiore al minimo di giugno, quindi secondo me i mercati vogliono proprio arrivare lì e stanno tentando di raggiungere appunto questi livelli di minimo. Vediamo se sarà così. Passiamo a questo punto invece al rispondere alla domanda. Ma esiste un modo di trovare un momentum che ci dice che il lavoro duro della Fed sta per terminare, quindi i mercati probabilmente avranno toccato una fase di minimo. Sì, un livello, un grafico c'è, non iniziamo a guardare, si compone di due grafici, c'è una cosa nuova ragazzi che ho creato, perciò ovviamente può essere che magari avrà qualcosa, qualche ritocchino da fare nei prossimi mesi, ma ce lo portiamo a casa, ce lo rimettiamo dentro il nostro bagaglio di grafici da guardare e poi sarà molto utile proprio per darci un'indicazione temporale. Allora, questo è un grafico composto da due grafici. Andiamo a guardare il primo. Allora, il primo ragazzi è il tasso di inflazione ovviamente, che è il inflation rate in United States, come vedete salito a livelli stratosferici, tra le altre cose vedete uno dei livelli praticamente più alti degli ultimi 40 anni, quindi questo grafico lo andremo ad utilizzare, ma poi andremo a utilizzare anche un altro grafico che è quello dei Fed Funds, che ancora non è aggiornato, a dire la verità, al rialzo di ieri, perché adesso siamo un po' più su in questa zona qui, si aggiunga con calma. Intanto ragazzi vedete come anche la fase di free money, chiamiamola così, degli ultimi 40 anni volge proprio tecnicamente al termine con l'ultimo rialzo, quello avvenuto proprio a settembre. Perché? Perché si inverte il trend, cioè si va in pratica a superare il precedente massimo, che era del 2019, che adesso siamo qui su e quindi il trend è tecnicamente invertito, un trend di 40 anni fa ragazzi, quindi è una data, insomma un dato oggettivo, poi che da qui si inizi un trend a rialzo, non credo ci sia così ragazzi, poi vedremo, ma non credo insomma che sarà così, probabilmente ci assisteremo a livelli più alti rispetto ai precedenti dieci anni, però questo lo vedremo poi con calma. Allora combinando questi due grafici andiamo a creare un nuovo grafico che può indicarci temporalmente quello che è una fase di tempo, in cui la Fed può dire ok il mio lavoro è fatto. Allora intanto vi faccio capire un discorso, ritornando al grafico del tasso di inflazione, inflazione vi faccio comprendere diciamo un concetto molto importante ragazzi, quello che è il punto in cui la Fed e le banche centrali vogliono portare il tasso di inflazione è questa zona qui ragazzi, cioè questa zona intorno a questo valore 2 è qualcosa, loro dicono target rate 2% però la fase in cui il tasso di inflazione è stato più basso, come in questi anni dopo la crisi Lehman per esempio, vedete mediamente il tasso di inflazione è stato più basso rispetto agli anni precedenti, non è buona questa fase e non piace alle banche centrali, perché per la stabilità del sistema un tasso di inflazione che sia tecnicamente intorno al 2% positivo è fondamentale, se invece il tasso di inflazione diventa negativo è pericoloso, quindi tra un tasso di inflazione positiva e negativo è meglio il positivo ma deve essere sotto controllo, questo è quello che la Fed vorrà e ma in generale anche le banche centrali, perciò il periodo storico ragazzi che meglio va a definire quello che è l'obiettivo di Powell in questo momento è questa fase qui, cioè gli anni della prima decade del 2000, dal 2000 al 2008-2009 pre-crisi Lehman. Ci serve questo dato perché adesso nel grafico che viene composto tra questi due grafici, un grafico di spread, andiamo a trovare quel periodo e vediamo il livello, il valore che ci indica quel periodo. Allora basta andare a comporre questi due grafici e ottenere un grafico di spread che è molto importante perché può darci un'indicazione fondamentale. Allora ragazzi io ho calcolato qui il grafico di spread con la solita formula che potete ricavare anche voi, il tasso di inflazione diviso il tasso dei Fed Fund, in questo caso noi abbiamo una struttura di questo tipo. A noi interessa ragazzi il valore come punto d'arrivo, quindi noi dobbiamo farci trading, però dobbiamo capire quanta strada ancora manca, come ha detto Powell, quanto lavoro ancora c'è da fare, quanto i tassi continueranno a salire, quanta è l'interdipendenza tra il tasso di inflazione e il tasso di sconto. E questa cosa si vede solo in questo tipo di grafico che è un Ray. Allora ragazzi vedete, nella prima decade del 2000 il rapporto tra tasso di inflazione e Fed Fund era in questa zona qui, quindi tra questo tipo di struttura, vedete? Cioè un po' sotto l'uno, un po' sopra l'uno, un po' sotto l'uno, un po' sopra l'uno. Questo significa che fin tanto che il rapporto tra inflazione e Fed Fund non ritornerà su questa linea, quindi questo livello dell'uno, il lavoro di Powell non sarà terminato. Questo è quello che in pratica il presidente della Fed sta più o meno dicendo e probabilmente sta andando a fare. Quindi dobbiamo aspettare che temporalmente questo tipo di indicazione ritorni sul valore di 1. Vi faccio vedere dove siamo adesso. Io ho già messo una struttura temporale, questo è un grafico su time frame mensile dello spread della ratio in questione. Guardate un po' come questa struttura è molto interessante. Tanto vedete come è stato pilotato proprio la fase di ribattista che non è assolutamente dovuta all'inflazione, ma al rialzo dei Fed Fund, quindi proprio pilotata, vedete? Per riportare in equilibrio questo ratio, questo rapporto e riportarlo in questa zona. Qui siamo ad agosto, manca settembre che abbiamo visto già più giù, quindi in realtà questa zona è già rientrata in questa casellina. dovrà scendere probabilmente qui, quindi Powell si fermerà quando saremo intorno a questa zona dell'1. Adesso vi dico anche come è composto questo rapporto, ma è facilissimo, giusto per capire come possono avvenire gli equilibri delle forze per riportare questo valore intorno all'1. Questa cosa qui vi ho messo a livello temporale, una zona fino almeno aprile 2023, cioè questa è la zona in cui in questo lasso temporale, in meno di shock di ribasso immediato dell'inflazione, avremo una fase di struttura di possibile fine lavori per la Fed. Quindi possibile fine lavori della Fed nel primo quadrimestre del 2023, ragazzi. Questo è quello che ci indica questo ratio. Da cosa dipende il ratio in questione? Dipende facilissimo, come vi ho detto prima, dall'inflazione al numeratore e tasso di sconto al denominatore. Questo significa che qualora il numeratore dovesse scendere improvvisamente, il tasso di infrazione dovesse scendere, allora avremo una discesa repentina di questo rapporto, quindi questo ratio. Oppure la Fed deve continuare ad alzare i tassi di sconto. All'attuale livello di inflazione, 8 e 3, per avere un rapporto con il tasso di sconto pari ad 1, i tassi di sconto devono arrivare, ragazzi, all'8 e 3%. Questo significa quasi il triplo, due volte e mezzo quelli attuali, quindi ci sarebbe più di un anno di rialzo di tassi di interesse se l'inflazione non cala, ragazzi. Ovviamente non sarà così, ma giusto per spiegarvi come questo rapporto funziona, è una fase molto delicata, io penso che nei prossimi giorni e nei prossimi mesi già iniziare a vedere un tasso di infrazione che scende, sarà presa molto bene dai mercati. Quando questo rapporto sarà vicino l'1, Powell avrà finito la sua operatività, magari troviamo dei buoni prezzi, in quel caso ragionare già di bari di dip potrebbe essere accettabile qualche mese prima proprio, non in concomitanza, ed potrebbe essere, perché no, interessante. Qualche mese prima, se questi calcoli sono giusti, da dicembre in poi. Vediamo se è vero. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo indicatore, ce lo portiamo in tasca, mettetemi in pollicioni su questo video, soprattutto se siete arrivati alla fine, condividete con chi volete, perché magari è un valore aggiunto anche per tantissimi che stanno cercando di capire cosa fare con i propri portafogli, e vediamo se funziona, vediamo se anche questa volta abbiamo fatto una super previsione. Per oggi è tutto ragazzi, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!